3, 2, 1 Buonasera, buonasera, oh grazie, grazie Un love a me, un love a me Ciao Biancosole Allora, intanto che... Ecco, 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 mamma mia Ma stasera cosa ho combinato, cosa ho combinato Vediamo un po', vediamo un po', ciao Biancosole Ciao Viviana, ti ho invitato Vediamo un po' se riesco Guardiamo, guardiamo se, se c'è, inviato Sì, io l'invito l'ho inviato Vediamo se Viviana accetta Aspetta, non ti vedo ancora Dove sei? Ecco, ciao, buonasera, buonasera Ciao, ciao a tutti Buonasera, sono emozionato Viviana, te l'ho scritto No, grazie, grazie a te E devo dire grazie Alle persone che mi seguono Perché insomma La storia mia con TikTok è una storia Nasce in modo diverso Ma comunque ne parliamo poi Certo, certo, allora Viviana Alza un attimino il volume, strano Perché poi, aspetta eh Alza eh, alza il volume Ok, ti sento bene, ok Perfetto, ho messo anche il microfono, tutto Mi sono vestito a festa Allora, intanto io vorrei ringraziare insieme a te Il gruppo di moderatori Eh, della Tata Family Che mi stanno aiutando in questo mio nuovo percorso Le interviste Che sono molto importanti i moderatori, eh Sono la linfa vitale delle live Quindi, grazie Qui c'è Tata Francesca C'è Orazio Biancosole Insomma, c'è un monte di gente Orazio Moreno Li saluto a tutti Li saluto a tutti Ma mi stefi Eh, per la fiducia Mister Baguette Allora Viviana Visto che mi hai scritto Che hai un Un altro impegno Subito dopo E ti ringrazio Eh, di aver accettato il mio Eh, partiamo subito con alcune domande Cenni Eh, se vuoi Naturalmente Non abbiamo preparato niente con Viviana Come non preparo niente con nessuno Cenni sul tuo impegno in polizia Se vuoi Che risale a Ma guarda Eh, si è detto molto del Eh, della mia esperienza in polizia Di tantissimi anni Ho perso aperta alle donne Nel lontano 1985 Figurati avevo Appena 19 anni Puoi immaginare Entro Eh, in polizia In una polizia Che era stata da poco Smilati Smilati Eh Militarizzata Militarizzata Grazie Si vede che La serata Già sono in tilt E come cultura In realtà No Perché ancora Erano inquadrati In un certo modo I cari colleghi Vedersi entrare Eh, mh Tutte queste Tutte queste donne Non tanto Ma Già il primo gruppo di donne Eh, vi posso assicurare È stato Anche per loro Molto difficile Molto complesso Io Ebbe la fortuna Di andare Pur essendo di Milano Subito al reparto Volanti di Roma Pensate 800 uomini In un reparto Grandissimo Enorme La Guido Reni Che è di Roma Chi ci segue di Roma Sa Dove sta 800 uomini Con 20 donne Che entravano In questa enorme caserma Quindi Ben o male C'erano 5 donne Perché c'erano 5 turni In quanto si fanno I turni quinta Sulle volanti Per turni in quinta Si intende Si inizia la sera Poi il pomeriggio Poi il turno la mattina Poi la notte Il riposo Poi di nuovo la sera Che sono estenuanti Sono stressanti E quindi eravamo 5 per ogni turno E ogni turno Aveva circa 150 volte È stato Molto difficile All'inizio Farsi accettare Proprio perché Non avevano Una grande fiducia Nelle donne Ma non in quanto donne Perché associavano La forza femminile Con gli interventi Di prima linea Delle volanti Poi si sono resi conto Che in realtà Il sau affair Di molte donne Era importante In determinate situazioni E quindi pian pianino Poi ci hanno accettato Ma Ma c'è un ma Perché in quel periodo Dopo qualche mese Alla fine Non avevamo più La difficoltà Di rapportarci Con i colleghi maschi Ma con le mogli Dei colleghi Era quello Ci vedevano tanto bene Puoi immaginare Poi pian pianino Devo dire allora Avevamo un comandante Del reparto volanti Quest'enorme reparto volanti Che fu un comandante Molto in gamba Che riunì In quegli anni Nell'85 Le mogli E fece a loro Un bel discorsetto Quindi poi Si andò tutti D'amore Quindi questo È un trascorso Diciamo Di vita Che comunque Ti ha Diciamo Ti ha segnato Vuoi per la giovane età Vuoi anche Per le esperienze Ma sì Perché Guarda Io Vengo da una famiglia Che non si aspettavano Questo Mio papà Aveva uno studio Di commercialista La mia mamma Stava nell'ambito Della magistratura Quindi Di certo Non era loro Non pensavano mai Questa mia scelta Peraltro Mio padre Il mio babbo Sperava sempre Che io Continuassi Proprio la sua Il suo lavoro Il suo ufficio Il suo studio In realtà Poi Grossa delusione Perché Feci tutto questo Un po' Di nascosto E poi Quando insomma Messi di fronte All'evidenza Che avevo vinto Il concorso Per quanto loro Poi Sapevano Che ero andata A fare questo concorso A Roma Ma sai Mille possi Con non so Quante persone Che avevano presentato La domanda E dicevano Ma figurati Se mia figlia Viviana Vince Il concorso Invece Tac Vinto Allora C'è subito C'è subito Una domanda Ti spiego Poi lo spiegheremo Io Non vedo bene Perché poi C'è da dire Sono rimasta ferita In servizio Quindi Non vedo Praticamente Vedo solo Buon occhio Poi vi spiegherò Ti leggo C'è una domanda Viviana Viviana Ti è mai capitato Di ricevere Discriminazioni Sul campo In quanto donna Ma a parte Un po' All'inizio Io sono stata Molto fortunata Vuoi la buona sorte Vuoi Io credo Proprio Nella fortuna Perché Mi capitò Una pattuglia Di maschilisti Ragazzi Erano dei maschilisti Pazzeschi L'autista E il capopattuglia Io ero gregario Il gregario Era Allora Adesso non c'è più Perché sono due In pattuglia Era quello Che stava dietro L'autista E quindi Questi non la volevano La donna Tanto che Mi ricordo Che il capo Diciamo Turno Mi disse Guarda Oggi io ti metto A te Che sei un po' Più tranquilla Più calma Più self control Con questi Che proprio La donna Non la volevano Fra un po' Facevano una domanda Pure per il scritto Bene Cos'è successo Una sera Una notte Un turno di notte Che non vado Fortunatamente Io A fermare Fuga Nel senso Che C'era la segnalazione Di ladri In un negozio Ero nella zona Aspetta Aspetta Vicino a Centocelle E quindi Loro mi hanno lasciato Vicino all'auto Quale per dire Stai lì Che in capisninte Non fai nulla Hai appena otto mesi Ero allieva gente E noi andiamo Casa voluto Che me li vedo scappare E sono riuscita A fermarli Con una voce Proprio decisa E quindi Da lì Mi hanno sempre voluto Sulla loro guardia Che bello Che bello Complimenti Dice mister baguette Dice complimenti Per il tuo coraggio Perché so Come è pericoloso Una In prima linea Guarda Roma Tanto Io Venivo Fortunatamente Da una famiglia Molto tranquilla Da una vita Di provincia Di una provincia Del Piemonte Pur essendo Milanese Di origine Un altro discorso Un altro discorso Però Oggi c'è un sistema Che bene o male Col codice rosso Si sa già come intervenire Ma ero di fronte A dei casi Dove le donne Malmenate Ma convinte Poi da altre donne Della famiglia E parlo Di ogni tipologia Di ceto sociale Anche di quello elevato Erano le stesse donne Che dicevano Non andare A denunciare Perché se no La gente Cosa dice Questa frase Era sempre ricorrente E io continuo a dire Ma chi se ne frega Della gente Ma ti sta picchiando E andavo Dalle sorelle Che O le madri Che erano le stesse Che convincevano Le figlie E parliamo anche Di grandi professionisti Che convincevano A non andare A farsi rifertare Negli ospedali Quindi La difficoltà Era enorme Oltre che Eravamo totalmente soli Perché Più delle volte Le donne Che decidevano Poi di Scappare da casa Non c'erano Le strutture Quando Si doveva Scrivere Al Giudice di competenza Dopo qualche giorno Rispondeva Quindi noi Poliziotti Con già una misera Misero stipendio Ci autoassavamo Facevamo La colletta C'era la lira Di 500 lire A testa E pagavamo A loro Finché non c'era L'ok Del giudice Un Un albergo Una sistemazione Allora Intanto Domi Purple Dice La seguo Da un bel po' E intanto Ringrazio Tutti Grazie Grazie Le persone Che stanno entrando Allora Hai fatto Diciamo Cenno A un problema Che hai avuto In servizio Sì In base a quel A quel problema Ti volevo fare Una domanda Cosa Da quel momento Da quel momento Poi Hai abbandonato Ma Subito dopo Cosa ha significato Per te La divisa Guarda Non l'ho abbandonato Diciamo Che poi Non vedendo Da un occhio Mi è stato dato Durante una rapina Un pugno di ferro L'occhio sinistro Quindi potete immaginare L'occhio destro Poi insomma Per lavorare tanto Ho perso molto Anche l'occhio destro Uno dei motivi Per cui Da un po' di anni Non ho nemmeno più La patente Dico purtroppo Perché insomma L'occhio sinistro Totalmente perso Visivo Parlo Della parte visiva E l'occhio destro Che insomma Sforzando In continuazione Ecco che poi È uno dei motivi Che la patente Non ce l'ho Lo spiego Perché molte persone Dicevano Ah ma c'è mio fratello Che manca un occhio Ma l'altro Ce l'ha Sì magari a dieci decimi Io avendo quattro È chiaro Che sono un pericolo pubblico Soprattutto di sera Detto questo Per me È stato Uno stravolgimento Per quanto Il ministero degli interni Il dipartimento Della pubblica sicurezza Mi hanno offerto Di tutto di più Quindi entrare Nei ruoli tecnici Entrare Nell'ambito civile Perché Venivo da tante esperienze Di prima linea Anche Nelle scorte Di personalità Molto delicate Diciamo così È chiaro Che loro Malgrado Non volevano Perdere Una persona Che aveva Un'esperienza Su strada Io non sono mai Stata in ufficio Se non L'ultimo periodo Ai passaporti In attesa Della riforma Totale E quindi Per me È stato Uno sconvolgimento Perché Accettare Come È una sorta Di impiegata Con tutto rispetto Impiegati O ministeriali Nelle questure Nelle prefetture Però non era Il mio lavoro Io sono sempre stata Una donna In prima linea E quindi Ho accettato Questa Che è stata Poi Una Pensione Di invalidità Ma Essendo una pensione Particolare Di invalidità Mi hanno permesso Ovviamente Di poter In qualche modo Accedere Ad altri Tipo Di Non Lavori Diciamo Di Passioni Come È quello Del giornalismo Che ribadisco Sempre Una cosa Importante Io non sono Una giornalista Perché in Italia Lo sai Benissimo Si è giornalisti Sai un tesserino E quindi Perché Hai scritto Tot Infatti Io Io sono Bob Gas TV Non sono Giornalista No no Lo dico Perché In realtà Io non sono Giornalista Perché Perché sono Appensionata Perché Non posso Certamente Scrivo Per passione Per i giornali Non vengo Retribuita E quindi Di conseguenza Pur facendo Tantissimi Articoli Al mese All'anno Non posso Dimostrare Ma giustamente Che vengo Pagate Di conseguenza Non posso Nemmeno Entrare Nell'abito Però La cosa Italiana Cosa stupida Molto italiana Questa del Tesserino Dei giornalisti E Anche per i giornali All'estero Che quelli che mi consentono Poi anche Quando sono a Sanremo Di stare In sala stampa Perché Non c'è bisogno Del tesserino Da giornalista Come in Italia C'è una domanda Diciamo Se vuoi Puoi rispondere Oppure È un po' Diciamo Al Al limite Pensione Di privilegio O vittima Del dovere Secondo me Una bella domanda Sono due cose Diverse Allora Io sono In pensione Per causa Di servizio E C'è qualcosa In corso Per me Proprio In vista Di vittime Del dovere Perché Io rientro Nell'ambito Delle vittime Del dovere Che erano La vecchia legge Di Vittime Del terrorismo Però Vittime Del dovere Siamo Sieno Cinque O sei Ma È un iter Molto Molto Lungo Vi posso Solo dire Che il ministero Ha già accettato Ma accettare Da parte del ministero Non vuol dire Che Insomma Si è già fatto Per ora Io sono Una pensionata Della polizia Invalida Perché Ferita In servizio Allora Passiamo A un altro Argomento Passiamo Da Questa Trentacinque anni Di lavoro Ci tengo a dirlo Perché uno Pensa Magari C'è stata Dieci anni Quindici anni Trentacinque Allora Passiamo Da Conoscere Viviana Nel suo Trascorso Nel suo Lavoro Nel primo Lavoro E poi Sei Nella quinta Edizione Sei sbarcata Sull'isola Dei famosi E hai Legato Subito Con La villa Ma io Lugato Tutti Guarda Allora Era la prima Edizione Va detto Dei famosi Non famosi Entrata Nella storia In Italia La prima Edizione Dove Finalmente I non famosi Si trovavano Con i famosi Fu l'isola Dei famosi Non il grande Fratello Quindi c'era Questa grande Novità Gli ascolti Poi era Targato Rai 2 Fatto da Simona Ventura Una grande Dove si Pativa Veramente La fame Per Io Sono stata Più Quasi Due mesi Vi posso Dire Che fino Alla Quarta Settimana Non avevamo Nulla da mangiare Nemmeno Il riso Che era Stato Nascosto E lo trovai Casualmente Io Non per bravura Casualmente Nella sabbia Scavando A destra E sinistra Quindi Insomma È stata Una bella Esperienza A differenza Degli altri Quattro Io Andavo Molto D'accordo Con i Famosi Ma Perché Non vedevo Questa gara Cioè Io ero Già partita Dal presupposto Che Non potevamo Vincere Contro Personale Ricordiamo Belmondo C'era Francesco Cocco Un Cacciatore Importante In quegli anni Manuela Villa C'era Cristiano Maggiogli Alessandro Cecchi Paone Adesso Mi sfuggono Ma tanti Tanti altri La Deborah Caprioglio Erano Veramente Personaggi Che avevano Un curriculum Notevole E avevano Un seguito Notevole Poi Erano Ancora I tempi Dove T-Toc Non esisteva I social Sì Ma Posso dire Io Sono entrata All'isola Che non avevo Nemmeno Il profilo Di facebook L'ho aperto Dopo 4 anni Figuratevi Allora C'è Gianluca Che dice Viviana Complimenti Per la tua Immagine E voce Che porti Sui social Sempre Corretta E sincera E qui Si apre La parentesi Perché Ho messo L'isola Dei famosi Prima di parlare Dei social Perché L'isola Dei famosi Ha dato Il là A Diciamo Interagire Più Direttamente Più Velocemente Con il mondo Esterno Dalla nostra Casa I social Oggi Allora Io ti faccio Una domanda Che Diciamo Poi Apre Ad un altro Ad un altro Argomento Quali danni Possono Causare A livello Di interazioni Fisiche E personali Ai ragazzi Che stanno Crescendo Oggi Con questi Aggeggini Qui Ma come Ogni cosa Bisogna Saperlo Utilizzare Bene Se tu fai Un giro Su Tiktok O su Instagram Ma parliamo Di Tiktok Perché Sottolinea Molto I personaggi Instagram Molto di meno E più da modelle Modelli Vedo Molto bene E Tiktok E sempre Come in ogni cosa Come utilizzi Come hai la macchina Bella macchina Come ne fai uso Come un pirla O non come pirla Insomma E sempre quello Più ne fai Un uso cattivo È chiaro Che la durata Di questa macchina Dura poco Perché Se uno continua A fare Le segnalazioni Poi Per quanto Tiktok Ultimamente Fa un po' Il birichino E tutto Però io devo Dire che Quando io ho toccato Qualche settimana fa Il discorso Il discorso di Alcune famiglie Di come ne fanno uso Di Tiktok Ci arrivo C'è una domanda Di Tiktok Subito dopo Credo dopo un'ora Hanno provato a bloccarlo Ho fatto ricorso Devo dire Dopo nemmeno un minuto Me l'hanno ripresa in Apo Credo dopo un'ora Una domanda Intanto ringrazio Io saluto tutti Scusate Ma non avendo Quelle lenti particolari Non vi leggo Ma c'è lui Che legge E passa Allora c'è Orazio Mi sono perso una domanda Ma possiamo tornare Avanti e indietro Non c'è un protocollo Sì Orazio Che chiede Credi che la parola Giustizia Abbia lo stesso spessore Anche nei giorni nostri Questa è una domanda Che se dovessimo fare La storia Sociologica Della giustizia Ci sarebbe tanto da dire La giustizia La fanno gli uomini E quindi i giudici E ho sempre detto Che nella vita Bisogna essere fortunati Quando si nasce Si deve nascere In una sala a parto Con dei bravi medici Quindi anche Quando si va a scuola Con insegnanti Che hanno voglia Di insegnare E anche quando Vai al lavoro Persone che hanno voglia Di insegnarti Il lavoro E non devono essere gelosi La stessa cosa Anche quando ti trovi Tu o malgrado Purtroppo siamo Tutti sotto lo stesso Cielo può capitare A tutti L'imprevisto Di essere di fronte A dei saggi A delle persone Che stiano a volte Ad ascoltare direttamente Eh le persone Che stanno Eh diciamo Subendo Un'indagine E non Farsi in qualche modo Influenzare Dalla simpatia Dall'antipatia O dai Mh da quello Che Eh Dicono I salotti Talk televisivi Peraltro Io sono presente Vari volte Nei talk televisivi Di cronaca nera E quando intervengo Sempre il timore Eh per quanto Ho la stima Dei giudici Però qualche giudice Potrebbe capitare Ma qualche Che si possa un po' Ehm Non far influenzare Però possa in qualche modo Andare un po' Verso una simpatia O un'antipatia Di determinate situazioni Poi comunque Noi abbiamo Un sistema giuridico Ottimo Perché abbiamo I tre gradi di giudizio Quindi se non va bene Il primo Caspita c'è il secondo E poi il terzo Con questi molti diranno Ci sono state persone Che dopo anni E dopo essere stati Condannati In tre gradi Di giudizio Dopo vent'anni Trent'anni Si è scoperto Che erano Eh Innocenti Questo purtroppo Capita Eh Ripeto La giustizia E fa Le persone Umane E quindi L'errore Ahimè Ahimè E dico ancora Ahimè Ci può stare E non ci dovrebbe stare Perché ha a che fare Con la vita Così come i medici Con la vita Eh delle persone Idem Con la vita Eh delle persone Anche i giudici Se un insegnante Sbagli a insegnare Tu puoi ancora Prenderti il libro In mano Puoi andare a ripetizioni Puoi recuperare Ma se un medico Sbaglia a fare Un intervento E un giudice A giudicare E sono cavoli amari Per la tua vita Pensi Questa è una domanda Che mi è venuta adesso Mentre parlavi Pensi che sia Eh Diciamo I social Influenzino I giudici Oggi Ma guarda Io Penso che i giudici Non hanno nemmeno tempo Di stare tanto Sui social Quelli veramente seri Perché hanno una mole Di lavoro Eh notevole Che arrivano a casa Che non hanno proprio voglia Di sentire altre chiacchiere Forse in qualche modo Eh I talk televisivi Questa Eh Voglia di trovare A tutti i costi L'assassino Questo Eh Spingere Il cercare Da parte Eh Di un certo giornalismo Fa sì che magari Quel giudice Un pochettino Inesperto Preso Dalla Foga Non dalla foca Scusate Potrebbe fare Un po' Qualche piccolo errore Però Ripeto Poi insomma Eh Questo capita Raramente Sui social No Perché Va sicuro Che Quelli che conoscono Non hanno poi Il tempo di stare A smanettare Sui social Allora Veniamo ai social Ultimamente Eh Mi sembra Mi sembra O perché Vedo Eh Troppo spesso Eh Svuappando Come si dice Insomma Eh Io vedo sempre più Che Tiktok Si è spostato Verso Napoli Cioè La parte Partenopea No Eh Ma questi Tiktoker Partenopei Che stanno Sono molto Sono molto di più Non è che Si è spostato È una questione Di numeri Sono molto Di più E sono Tanti di più Che li seguono Se tu Se tu vai a Napoli Dovessi Per dire un domani Andare io Peraltro io Amo Napoli Non so se è in linea Una cara amica mia Imma Sorrentino Che è È di Napoli Ecco Non dico Non gliene frega niente Ecco In poche parole Magari segue Segue Determinate cose La cacciara Non interessa Ma i napoletani Hanno questa Capacità Di dare Tanto Dare Del Dei messaggi Molto interessanti Molto belli Dai cantautori Da ragazzi Che fanno teatro Dalle comicità E poi Da quelle famiglie Che Sono Non è Napoli Ma che purtroppo Vuoi o non vuoi È Napoli Perché molti dicono Non ci rappresentano Sì Però È Napoli È Napoli Io guarda Sono stato Quando ero militare Nel 1991 Io ho fatto tre anni Nell'esercito E ho fatto I Vespri Siciliani E Quando sono È una frase fatta Però È vero L'ho provato Sulla mia pelle Quando Il mio porononno Mi disse Simone Come dicono tanti Piangi due volte Quando partì Mi disse Ricordati Che piangerai Due volte Io sono andato Via da Napoli E non lo dico Per fare una smielata Perché Non Sa farla Io ti giuro Io Ci sono tornato Per andare a trovare Donato Con mollica O senza Per intervistarlo E ti devo dire Che Una signora Era Stava piovendo Eravamo lì Da donato E gli ho chiesto Signora mi scusi Voglio andare a vedere Il murales di Maradona Dov'è Eh lei deve passare Di qua Di là Ma aspetta Va Non è di strada Ma t'accompagno Cioè Questa signora Sotto l'acqua Ha cambiato strada E mi ha portato Fino di là Napoli è questa Guarda Io Già In un video Sempre detto Ragazzi Se avete La malinconia Andate a Napoli Napoli Non puoi sentirti Solo Tu vai solo In un baretto Qualsiasi baretto Ti siedi lì Dopo un po' Hai 3-4 persone Che chiacchierano con te Non puoi sentirti Solo a Napoli Può avere I suoi problemi Magari Di carattere Di microcriminalità Di difficoltà A trovare lavoro Però di certo Non ti puoi sentire Solo Allora C'è Cat Ti chiede Ti prego Viviana Salutami Ti stimo Tantissimo Ciao Cat Scusa Se non leggo L'ho detto Ma Vi Mi fa piacere Che Siete Molte Molte Sono le donne Che di solito Tu lo sai Le donne Giustamente Sono molto Bacchettone Molto Che Ti rimprovo Io Sono seguita Sai che C'è il sistema Per vedere Quante persone Ti seguono E chi Ebbene Io ho Un 72% Di donne Che mi seguono E poiché Le donne Come critica Sono eccezionali A me fa molto Piacere Ciao Allora Gianluca C'è una domanda Viviana Ai ragazzi Di oggi Che per Delle Visualizzazioni Sono convinti Di avere Fama Cosa Diresti Guarda Non è un problema Solo di ragazzi Ma anche di adulti Io conosco Un Signore Che Di queste Parti Che pur Di fare Ascolti Diciamo Ascolti Follower Pu Di fare Successo Fa le peggio cavolate Questa persona Quasi 50 anni E Vuol dire Ti fa capire Che il livello Cognitivo È proprio Così Perché credo Che bisogna Divertirsi Poi quando vai A cercare il successo Alla volta che Non arriva Che non lo trovi Non lo trovi Non Se deve arrivare Arriva Però come arriva Attenzione Questo lo dice anche Un personaggio di Napoli Come arriva Purtroppo Va via Guarda i grandi artisti In televisione A parte Quei 3-4 Che riescono a galleggiare Vedi un Paolo Bonolis E vedi Tanti altri Che hanno Un Cioè Non hanno problemi Né un esempio La Barbara D'Urso Barbara D'Urso Mai si pensava Che Da un giorno all'altro Un ciaone Quando lei Chiuse Il famoso Comeriggio 5 Io spesso ero ospite Da lei E chiuse Quel pomeriggio 5 Dicendo Ci vediamo a settembre Perché Nera Veramente Ma tutti Anche noi Delle redazioni Bene o male Sapevamo questo Poi con La morte Di Silvio Berlusconi Di Costanzo Certi equilibri Io credo Siano proprio Crollati E da lì C'è stato Questa grande Rivoluzione Questo per dire Dal successo Poi A parte Che vi posso Già dire Che Barbara D'Urso Ritornerà Ritornerà Non a Mediaset Ma si dice Sui canali Discovery Dove c'è Fazio Sicuramente Con un suo talk Perché lei Quello lo sa fare Veramente bene Quindi Questo bisogna Darne A atto Però Per dirvi Tutto Prima o poi Sali Sali Poi Improvviso Non te l'aspetti Quindi Social Viviamoceli Tranquillamente Però Senza Senza Nemmeno Oltraggiare Offendere In modo spettato Le persone Magari Usare Dei termini Che non corri Ovviamente Il rischio Di querele Allora Siamo Io ti avevo promesso Trenta minuti Guarda Anche di più Perché È tra 25 minuti Comunque Possiamo andare avanti Patti 67 Mi fai Salutare Da Viviana Ciao Ciao Patti Da dove Di dove Ecco Dicci Patti Allora Perché è bello Vedere L'Italia Dove Seguono E soprattutto È vero Diteci Da dove Digitate È interessante Patti Da Milano Ciao Patti Allora Frappè Dice Viviana Pensi che I tiktoker Dopo un po' Non riescono più A distinguere La realtà Dal virtuale Ma già sta succedendo Sta succedendo Purtroppo Con quelle persone Che non Poverine loro Non riescono a comprenderlo Insomma E da una situazione Magari particolare Di Eh Disagio Di Vuoi di Anche povertà All'improvviso Si sono trovate di fronte Che ha una Grande Ricchezza Che per ricchezza Non intendo Solo Sponsor Soldi Regali Ma anche ricchezza Di affetto Quindi questo Può un po' A volte Nuocere Alla salute Mentale Ecco perché Dicevo sempre Attenzione Non so se una o due settimane fa Io ho fatto un video Parlando di queste famiglie Alcune famiglie di Napoli Dove Mi chiedevo Come facevano all'improvviso A vivere in un lusso estremo Che Se uno è onesto Lavora O vive di pensione O vive di stipendi O più di tanto E non riesce a fare Io conosco molta gente A Napoli Non so Napoli Milano Pari Dappertutto Che lavorano E fanno veramente Fatica ad arrivare A fine mese E vedi queste persone Che Pelliccia A parte a Napoli La pelliccia Dico A parte che la pelliccia vera Non sia mai Perché io sono Una Che mi tocca Gli animali Però Ristoranti di lusso Viaggi Che uno dice Ma Allora sono io Che sono scema Che non ho capito Nulla della vita E sono questi Capaci Di Di Viversela Però poi Un consiglio Che diedi A una di queste persone È detto Però Tra le tante cose Che fai Che vuoi Magari Questi soldi Perché non li spendi Per una scuola serale Perché più delle volte Non li capisci Non li capiscono nemmeno Gli stessi napoletani Perché quando Ho chiesto Ad amiche mie Di Napoli Ma cosa dice Mando il video Loro mi dicono Non riesco a capirlo Nemmeno io Quindi Ricordiamoci Che vuoi o non vuoi Anche se la cadenza Napolitana È milanese È genovese È barese Però siamo italiani È una lingua È una lingua bellissima Per carità Cioè le generazioni Degli over 60 Non potevano Perché le famiglie Non se lo potevano permettere Ma vedere giovani Ma vedere giovani Parliamo anche Di certi personaggi Che stanno Nei reality Che non sanno Coniugare Che fanno Dei grossi errori Che hanno 20 22 26 anni Rimani un po' Perplessa Perché loro avevano La scuola dell'obbligo Quindi Comunque Leggete Studiate Leggete Ed essere laureati Ve lo dice una Che non gliene è fregato Niente di prendersela La laurea Non serve Assolutamente a nulla Se non attaccarla Al muro Quello che serve È una cultura Che ti fai Nella vita E comunque Leggere 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 Allora Facciamo il giro d'Italia Allora Verona Cremona Modena Roma Alghero Messina Oi oi Ho perso un po' Di messaggi Sono mai stata a Messina Palermo Si Capania Si Trapani Si Ho perso messaggi In Puglia quasi dappertutto Sempre per lavoro Per Allora Allora Piacenza Luisella dice Ciao cara Ti seguo Sei una persona Molto educata E professionale Grazie Questo mi fa piacere Mi lucida Poi c'è Santa La Rocca Viviana mi piace Perché è molto Sincera E schietta Sempre Nel rispetto Degli altri Un bacio Grazie Un bacio anche a te Bacioni Veramente Orazio Orazio ha detto Che sarà Il 72% Degli uomini Questa volta Va bene Dice Questo social A livello Televisivo Sia abbastanza Meritocratico Come a livello Televisivo Come social Non Cioè Secondo me Sedan Oddio No Però guardate Qualcosa Cambierà Perché nel momento In cui La monetizzazione Di Tiktok Non c'è più E quando arriverà Quella Un altro Tipo Si pensa Per maggio Giugno I creator Non sono Di certo Quelli Che faranno Vedere Cosa Combino In casa Le sceneggiate Tutte queste cose No I creator Sono Tipo Come te Che intervisti Io che faccio Determinati Commenti Stando sulla notizia Chi è tutorial Chi racconta i viaggi Chi Questi Saranno i nuovi creator Mentre Quelli Che fanno Vedere Guardate Mi sono Comprata Questo Non parlo Delle Influenza Ma queste Persone Che fanno Vedere Un po' La Carlona Cosa fanno In famiglia Che discutono Litigano Eccetera Non saranno Considerate I creator E quindi Pian pianino Il sistema Il sistema Stesso Le farà Uscire fuori Con le visualizzazioni Che diminuiranno Sempre di più Allora Poi Continuiamo Per maggio Giugno Continuiamo Torino Genova Cagliari Reggio Genova Mio papà Era di Genova Di Castelletto La mia mamma Di Milano Babbo mio Era di Genova Di Castelletto Messina Pesaro Spoleto Catania Viterbo Roma Sono tutte città Da visitare Spoleto Ragazzi Padova C'è la mia cognata Ciao Anna Bella Da Padova E Matteo Che bello Vedere tutta l'Italia Ragazzi Veramente Bellissima Addirittura Orlando Da Toronto Da Torino Cocca Pesaro Ancora Teresa Ti dice Ciao Viviana Come stai? Guarda Io sto bene Posso dirti Sto bene Poi come tutti Insomma Abbiamo Dei momenti Alti E bassi Però L'importante È cercare Un buon equilibrio Non avere pretese Nella vita È quello che mi ha sempre insegnato Il mio babbo È quello Io sono cresciuta Soprattutto poi Con il mio papà E mi insegnava sempre Mi piace quando dici babbo Mi piace quando dici babbo Pretendere troppo Poi le delusioni sono tante Quindi I sogni ci sono Si cerca di arrivare A far sì Mi sono tante Quindi I sogni ci sono Si cerca di arrivare A far sì Però Non avere Chissà Quelle grandi pretese E soprattutto Quando arriva il successo Ragazzi Io l'ho vissuto Con l'isola Quando sono uscita Dall'isola Io dicevo Agli altri Non famosi Perché faccio parte Della categoria dei NIP Ho detto Guardate che Per un mese Due mesi Grande successo Dopo Non ci cagherà più nessuno Ma dicevo E cos'è successo Poi io sono stata fortunata Perché avendo la parlantina E tutto Ci fu E ringraziato 14.000 infante Con Italia sul 2 Che andava in quegli anni Per dieci anni Ero fissa Quasi tutti i pomeriggi Su Rai 2 Italia sul 2 Quindi rispetto agli altri Ma poi Devi imparare A galeggiare Ecco perché Sempre Tempo fa Io ho fatto un video A tutela Di Giuseppe Garibaldi Perché? Perché io lo vedo Un bravo ragazzo Di famiglia Veramente Bella Semplice Ma bella Ma mi preoccupa Perché l'altro giorno Siamo uscito dicendo Non vedo l'ora Di andare a presentare Striscia la notizia Già questi sono Dei campanelli Dell'arme Perché ti fa capire Che sto ragazzo Fuori Immagina che Prima o poi Lui Il mondo Sarà tutto Ai suoi piedi Purtroppo Non sarà così Perché? Ecco perché Ho invitato La famiglia Convincerlo A non lasciare Il lavoro Che è importante Come dice Che cosa è Il lavoro Il fisso Non si lascia mai Perché questo è un mondo Che sembra che ti dia Ma non ti dà nulla È già tanto Che galleggi E quindi lui Il lavoro Non lo deve perdere Può ogni tanto Fare un'ospitata in radio Fare questo E quell'altro Ma non può pensare Che sia la persona adatta A fare cinema Perché a una certa età E le accademie È di 4-5 anni Non ti prendono Nemmeno fare O l'opinionista Perché non ha Quella linguistica Così veloce Non me ne voglia Magari il fans Ma lo dico Con il bene Di questo ragazzo Certo Però può continuare A fare questo Suo bellissimo lavoro Che è quello vicino A le generazioni future Ma nello stesso tempo Continuare L'ospitata E essere Il Diciamo Il personaggio Della sua città Che per sempre Lo ricorderanno Lui Quello che ha partecipato Al grande fratello Allora Io ti vorrei Fare un'ultima domanda Sì Perché poi devo Vorrei ricordare Che questa intervista Sarà pubblicata Su integralmente Sul mio canale Youtube BobgasTV Non si potranno Leggere Per ovvi motivi I commenti Perché Non vengono registrati Però Cerchiamo di leggerli tutti C'è una domanda Di Frappè Che dice Io mi dovrei laureare In sociologia E master In criminologia Pensi che l'Italia Sia il posto giusto Per fare Questo tipo di studio Lo dice Una sociologa E gli anni in cui Quando mi sono laureata Con Il dottor Ferrarotti Professor Ferrarotti A Roma La Sapienza Ancora sociologia Veniva snobbata Quando in America Era considerata La facoltà Importantissima Basta dirti Che gli autori Del Parti sono O psicologi O sociologi O scienze Umanistiche Insomma Questo comunque È il loro Settore No Sarebbe ora Perché Ne abbiamo bisogno Ne ha bisogno I vari tribunali Ne hanno bisogno Le carceri Avrai Molte Molte Possibilità E credo E credo Che in questo Contesto Soprattutto Nei concorsi Non so Se esiste La meritocrazia Te lo dice una Che non era Raccomandata Per entrare Nel primo concorso Aperto Anche alle donne In polizia E mi è andata bene Però È una bella Facoltà A me È piaciuta Tantissimo La facoltà Di sociologia Ti apre La mente E ti aiuta A rapportarti Molto bene Con gli altri Ad essere sempre Molto curioso Perché Prima Quando io dico Sempre Nei miei Video Documentiamoci Prima di dire Certe cose Documentiamoci E quindi Insomma Poi Ti puoi fare Un'idea Poi uno Può anche Sbagliare Ma deve essere Sempre pronto E mi è capitato Alcune volte Di dover Chiedere scusa Perché avevo sbagliato Allora Viviana Io Io vi saluto È stato Io ti voglio Vedere Ti voglio vedere Una volta In un video Che suoni La chitarra Devo farmi Prestare Allora Da qualche Duno La chitarra Allora Io per la musica No Sai che ho fatto Il primo anno Al conservatorio Poi elegantemente Poi elegantemente Dissero al mio babbo Ha detto Guardi Viviana Non è portata Per la musica Perché al conservatorio C'erano le medie E quindi Potevi fare La prima Seconda Terza media Anziché fare Una materia Facevi Non ero portata Ma proprio E quindi Molto amareggiato Mio padre Poi mi iscrisse In seconda In terza media In un'altra scuola Dove non c'era musica Perché io Purtroppo Non No Non sono Incompetente Non sono portata Lascio Le ultime parole A te E poi Un mio pensiero Grazie Allora Vi saluto Perché vedo Che siete Tantissimi Vi invito Ad usare I social Sempre con Garbo Pensando Che dall'altra parte Non sappiamo Chi c'è E più delle volte Dietro ai leoni Di tastiera Ci sono delle persone Molto Sole E quando mi trovo Di fronte a questi leoni Di tastiera Io mi approccio Con grande dolcezza E alla fine Diventano degli amici E io concluderei Dicendo Quando La bocca Si muove Il cervello Deve essere Acceso Sempre Buona serata a tutti Ciao Ciao ragazzi Grazie Ciao Buona serata E buonanotte a tutti Ciao a tutti